Alla fine della regola del season, la Rio Gio, il meccanico di Modena si va a prendere una grande vittoria in casa della squadra campione d'Europa, la pomica Salmaggiore. Continua a vincere la Rio Gio in un momento veramente importante, soprattutto con i ness importanti, perché torna Marika Bianchini e mette giù tanti palloni e una grande gara. Sì, abbiamo avuto problemi con Bracocevic al ginocchio, sono stata chiamata in causa al secondo set, sono entrata e ho cercato di dare subito la carica alle ragazze e come sempre di fare del mio meglio. Cosa significa per te tornare in campo, cosa significa soprattutto trovare una squadra che adesso sta giocando veramente una bella bella vola? Beh, è una grandissima emozione in un campo che conosco benissimo, che è quello della Pomì, per me è una grandissima soddisfazione perché mi sono allenata sempre bene finora e io voglio dimostrare a tutti le mie capacità, quello che so fare e quindi io devo sempre fare bene. Sei appunto la grande ex e adesso Modena ha degli impegni veramente importantissimi perché ci sono due coppe da affrontare e veramente non c'è neanche il tempo di respirare. Sì, ora la prossima ce l'abbiamo martedì, questo, dobbiamo assolutamente prendere un punto dal polis e da lì entrare nelle final six. Che ti aspetti in una battuta? Che mi aspetto, mi aspetto di prendere subito tre punti.